attenzioni questa è una parodia oppure il doppiaccio questo video è solo per divertire anche se ci sono i sottotitoli ma fa niente questo video spero che la parodia vi piaccia la parodia doppiaccio sta per iniziare buona visione che bello la vita che bello a quanto è bella la mia vita da un accendo sono famosa calcio che è bello ehi possiamo giocare con lei a calcio si da giochiamo a calcio con lei le tante più forte di tutti vabbè tanto so lo sapete che sono più forte sta giocando a calcio da solo che cosa hai fatto hai distrutto tutto col pallone non si ma non si può fare io comunque la faccio sono io scusa io sono famosa a calcio quindi se vuoi giocare con me non penso proprio ma sei messi vieni come si gioca a calcio non voglio giocare con te punta e io sì ce l'ho fatta cabello ho vinto io dove sto io e dove sto perché non sta parati o dove sta su un posto di fornit si si sta in posto buco di fornit buon giorgio e lascia la mia cosa va e lascia tanto io sono più forte di tutti tanto con la faccia sei brun cammello no no te ne andare no te ne andare dal allora questo è un circo calcio praticamente si parla di tutto a calcio dove sta voglio giocare io mi annoio buongiorno a dove sta perché devo stare sempre qua nani il mio combattimento di dragoball allora possiamo giocare a calcio tutti contro tutti possiamo giocare con lui sì tu devi far l'abito così oppure faccio così chi è allora lo cannone special siamo dragoball sì giochiamo a dragoball invece di calcio no ora ti voglio venditarmi quindi ciò che a calcio no c'è un dragoball tata onda energetica ehi ma questo è il dragoball ah non è problema perché stanno giochendo a calcio sì o calcio o dragoball sì è dragoball sicuro ma è un circo allora questo è il mio coso ti vendi che era col mio pacchetto speciale e non si può catturare la mia amica ehi buon ciorcio ehi ma chi è sta qua è una banana no non lo so forse vuole giocare a calcio con noi oppure devi lavorare oppure devi andare in ti prego io sono da sola ti prego per favore almeno posso giocare a calcio e avva io e possiamo giocare a lei a calcio no poi spasciamo tutto quindi mello di no e allora giochiamo a calcio tu devi lavorare allora devi fare tutto lavorare anche se ti ingapoli comunque devi lavorare tutto non posso più perché devo lavorare e devo allenarmi al dragoball non è giusto una vita una una vita brutta giochiamo a calcio sì che bello che bello la la vita di calcio oh ma guaglioni che fai il rumore buongiorzo eccovi brutti banani e bello a tutti ragazzi benvenuti su famiciano c'è aspetta raga mi imbroglio sempre bello a tutti ragazzi sono brog e mezzero sette e spero che questa questa parodia vi piaccia ho il doppiaccio l'hashtag doppiaccio in descrizione il video finisce qui almeno questo video per 10 like per il prossimo video poi se finirò la il coso personalizzato farò un prossimo video raga il video che state vedere una parodia di gold box di un ragazzo che spagnolo che fa i video di cazzo e ragazzi il video finisce qui ma aspettate raga metterò e ragazzi vabbè comunque il video finisce qui e ciao ragazzi tra un po' posso avere una maglia personalizzata quindi il video finisce qui la parodia doppiaccio buona visione ciao ragazzi aspetta aspetta